Avete battuto anche di netto, direi, una squadra che sicuramente è quantomeno più esperta di voi, dovreste essere contenti. Sì, siamo molto contenti, la partita era difficile, loro sono una grande squadra e siamo riusciti a rimanere concentrati nei momenti difficili e a portare a casa i tre punti. Stefano, forse non ve lo aspettavate che una squadra così giovane, in fin dei conti, vi tocchiasse fino al punto di battervi oltretutto 3-1, ma ora non vorrei essere cattivo, parla tu. No, 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 la partita l'abbiamo preparata in certa maniera, abbiamo avuto un po' di problemi durante la settimana scorsa e anche l'inizio di questa, infatti non sono andati benissimo. E onore a loro che hanno vinto, l'hanno preparata sicuramente meglio, ci hanno messo più voglia. Noi sfortunatamente abbiamo fatto un po' i somari, siamo cascati un po' nel loro tranello, ci hanno fatto innervosire. Però torniamo a casa, consapevoli che dobbiamo impegnarsi di più e poi vediamo quando vengono in casa da noi come finisce la partita. Comunque onore a loro che hanno vinto, bravi!